E' Natale! L'occasione per preparare un dolce fatto in casa, che si sposa a meraviglia, sia con una cioccolata calda che con una piacevole tazza d'orzo. Pochi e semplici ingredienti, 120 g di zucchero a velo, 120 g di zucchero, 2 uova, un cucchiaino di cannella, se vi piace anche due, un limone, un'arancia, 300 g di mandorle, il nostro ingrediente principale. Per prima cosa, tosta in padella le mandorle e frullale, fino ad ottenere una farina grossa. Aggiungi la buccia grattugiata del limone e dell'arancia insieme alla cannella e mescola. A parte, monta gli albumi a neve, aggiungi poco alla volta lo zucchero e poi lo zucchero a velo, unisci due terzi della meringa al composto e amalgama bene il tutto. Stendi l'impasto, formando un rettangolo ben preciso e versa la restante meringa, taglia gli stelli e metti in forno, ventilato a 90 gradi per circa un'ora. Tutti i dettagli della ricetta su